Per Mr. Stroke, Matchpoint Bip, Negrotto Lewis, Maximo Volo, Matrix Rub, Notturno e Yellowstone Guasimo. Seconda fila con l'8, Monzonfetz, il 9, Malibu Bip, il 10, l'Uberbox SM, l'11, Max Rod, il 12, Matrix Rob, il 13, Leroy Gassi, il 14, Melograno PL. Terza fila per il numero 15, Nash DM, il 17, Nadal OM, il 18, Nereo One. Problemi per il numero 11, Max Rod, prima dello stacco che avviene in questo istante con Matchpoint Bip, che cerca di difendere la posizione dall'attacco di Notturno, che poi si sistema in seconda posizione, a precedere il numero 7 di Yellowstone Guasimo. Si va così al completamento della curva con Matchpoint al momento al comando. 32, il passaggio ai 400 con Vincenzo Alessandro che cerca di frenare un po' l'andatura del treno esterno di corsa che vede l'Eroa Gassi con all'esterno di tutti il Nadal OM che si ingamba con un buon spunto lungo la dirittura per andare al fianco del Battistrada, 46,5 con Matchpoint al comando nei confronti di Nadal OM all'esterno, poi Notturno alla Corda, quindi ancora per linea esterna l'Eroa Gassi davanti a Yellowstone Guasimo. 1,3 il passaggio agli 800, si va al chilometro con adesso dal fondo del gruppo anche l'avanzata in terza ruota di Negrotto Lewis. Il chilometro in 1,18 e 3, posizioni che per il momento rimangono stazionali, cerca di progredire Negrotto ma rimane un po' lì, poi perde anche qualche battuta e allora all'inizio dell'ultima curva sempre al comando Matchpoint con all'esterno Nadal alla Corda a Notturno, poi l'Eroa Gassi, poi ancora la pariglia formata da Yellowstone Guasimo e Matrix Robb. E si va così adesso all'ingresso addirittura con Matchpoint al comando che cerca di allongare su un Nadal OM all'esterno, prova a farsi vedere anche il numero 13, Le Roa Gassi, Matchpoint Vip che attacca gli ultimi metri, Matchpoint Vip che viene a concludere rendendo vano il recupero di Le Roa Gassi e Yellowstone Guasimo. 2,4 e mezzo la distanza per Matchpoint Vip che questa volta in percorso di testa non ha avuto eccessivi problemi con Vincenzo D'Alessandro alla guida, Giovanni D'Alessandro al training, per i colori della scuderia Galaxy il tempo al chilometro recita 1,17 e 8. Buon secondo posto per Le Roa Gassi possiamo dire anche in una prova contro schema che nel finale riesce comunque a prendere la miglior piazza.